Ingredienti per tra due e tre persone della crostata siciliana con fragola per la frolla. 60 gr di burro, 100 di farina, 40 grammi di zucchero, un rosso d'uovo, un pizzico di buccia di arancia e un pizzico di buccia di limone grattugiate. Un pizzico di vaniglia per la crema pasticcera. 150 grammi di latte intero, 30 grammi di zucchero, 12 grammi di amido di mais, 8 grammi di farina 0,0, un rosso d'uovo, 50 grammi di panna montata. Per la salsa di fragole. 50 grammi di fragole, un cucchiaio di zucchero, qualche goccia di limone preparazione. Per la frolla. Lavorate burro e farina fino a quando l'impasto non risulterà sabbioso. Poi aggiungete il rosso d'uovo e lo zucchero e lavorate un po' con le mani senza far riscaldare troppo la pasta. Una volta pronta. Avvolgetela nella pellicola e mettetela in frigo per un'ora. Per la crema pasticcera. Scaldate in un pentolino il latte e lo zucchero. In una ciotola mettete la farina, l'amido di mais e il rosso d'uovo e, una volta che il latte è caldo, versatelo a filo nel composto e con una frusta, girate affinché non si formino i grumi. Poi rimettete tutto nel pentolino sul fuoco e fate addensare. Fate raffreddare la crema e poi aggiungete la panna montata e girate. Per la salsa di fragole. Unite tutti gli ingredienti e frullateli con un mixer.